Ciao a tutti, qui Alice Verti e sono qui per aiutarvi a cercare la vostra strada nel mondo magico dell'editoria e del fumetto. Per chi non mi conosce, sono l'autrice di questo libro pubblicato da Bao Publishing, Neon Brothers. Se non mi conosce già, sono Kamibu Cartes e un illustrator d'Italia. Per chi non mi conosce, sono l'autrice di questo libro pubblicato.